Splendida Coraggio, oltrepassiamo la porta della banana Ecco un rinfrescante e caldo cartone con il nostro paperino Non dimenticate gente, tra qualche minuto vi svelerò il più grande segreto del mondo Quindi non andate via Sta tranquilla Clara Bella, qui nessuno se lo vuole perdere Ah, proprio come nessuno si vuole perdere il prossimo cartone San Valentino Ciao 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 Ciao